Questa donna è felice perché è già cliente di Mobilia Megastore. Ha acquistato un arredamento completo di grande qualità, spendendo molto poco. Le più belle camere da letto le trovi tutte da Mobilia Megastore. E in 50.000 metri quadrati di esposizione avrai grande scelta e grande convenienza. E puoi pagare, come ha fatto lei, senza conto, in sei anni, anche a tasso zero. Diventa anche tu un cliente felice di Mobilia Megastore. Dove la qualità costa meno. Anche la domenica a Caserta Sud.